FEDELICOTO Antonio, Roma Polivino Biomento, psichiatra. La droga è un alcol, è l'alcol. Io ti parlerò dell'alcol a proposito di questo nuovo modo di drogarsi che è il poliabuso. Quello di prendere di tutto un po'. E soprattutto della differenza che c'è tra alcolismo e binge drinking. Il binge drinking sono quei ragazzi che bevono di colpo tanto vino, tanto whisky nel giro di 10 minuti con il fine stesso di perdere conoscenza saltando tutta la fase di ebbrezza. E arriva a non mettersi una goccia di vodka con il cucchiaino nella cornea dell'occhio. Allora quello è alcolismo? È un disturbo comportamentale prima che da sostanze. Oggigiorno il nuovo modo di drogarsi si concretizza con il poliabuso. Non esistono più eroinomani o cocainomani come magari immagino ci fossero negli anni 70 e che questo modo di assumere sostanze era anche supportato da idee legate alla politica probabilmente. Io in questo senso sono forse giovane per potermi ricordare cose che sono a livello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.